Salve ragazzi, allora, non so come dirvelo, in questo video, una sola coro, un nuovo coro per il Milan Solo la maglia, salviamo solo la maglia, solo la maglia, salviamo solo la maglia Ed è così, perché stasera 2 a 1 per il Milan, ma in maniera assolutamente culone e rocambolesca Io tutti gli insulti che mi stanno dicendo, Milan culone, Napoli è più forte e cosa, mi ritengo, mi sto zitto Perché stasera abbiamo fatto veramente schifo, sentite ste parole, schifo, abbiamo fatto schifo Cioè non so veramente che dire, primo tempo, perfetto cross di Giroud, arriva a Leao, puff, 1 a 0 E pare che la partita cominci bene, perché attacchiamo, facciamo, invece dopo esce fuori la Fiorentina E Milan si fa aspettare, puff, fanno 1 a 1 con Barak, con un'azione un po' rocambolesca C'è da dire, non hanno fatto occasioni nettissime la Fiorentina, però hanno giocato già meglio di noi Poi dopo, nel secondo tempo il Milan finalmente comincia a uscire Giochiamo un poco, ma la Fiorentina si chiude bene Noi siamo super spreconi, Orighi e Leao, cioè Leao sera ha fatto gol Orighi da schiaffi stasera, veramente L'ennesima prova che non è da Milan e mi sbagliavo Scusate, perdonatemi quelli che ho detto che Orighi meritava la convocazione nazionale Il coach per una volta è fatto la scelta giusta, ah e Lukaku ci va, quindi doppio errore per me Vabbè, allora, per quanto riguarda il Milan Allora, tornando al Milan, allora, Orighi, nome di merda Per il resto, De Ketelar non è entrato Il nostro campione, che stasera c'è campione, no, il nostro che ha fatto la differenza è Aster Branks Incredibile L'autorite di Milenkovic, la causa Branks E allora lui che c'entra? C'entra perché è lui che ha fatto l'azione Senza quel cross non sarebbe mai entrata Aster Branks veramente un giocatore Piccolo ma che ha due palle così C'è in campo, avete visto con che personalità giocava contro la Fiorentina Cioè, pare che non gliene importava un cazzo Non gliene fregava un emerito cazzo Ehm Non gliene fregava un emerito cazzo a Branks Ad esempio, se avesse capito, se era titolare o riserva Entrava e giocava Io mi auguro che in questa amichevole Adli che non gioca nelle cose giochi parecchio Mi auguro che Adli giochi perché in questo pre-campionato Cioè, in questo campionato Finora Adli non è deludente Ha giocato solo quella a Verone da 5 Ma il caro Yasin Non puoi giudicarlo Devi farlo giocare più spesso Porca di quella puttana Pioli qua un bel po' di cosucce da dirti Un anno Un semigione d'andata da 5 Avrai anche battuto Inter e Juventus Ma facile batterle quando sono veramente in crisi Come appunto adesso Cioè, facile battere Juventus e Inter Quando sono praticamente Ehm Beh, quando sono peggio di noi Il Napoli che è già migliore rispetto al Milan Poft Scusate se ho guardato di là Sto guardando un attimo Il Napoli che è già migliore del Milan Poft Ce l'ha inculcato E io mi arrabbio sempre con i ragazzi Perché tutti i green tanto vi hanno battuto e cosa Eh, ma non meritavano di vincere contro di noi Questo dico Dico solo che non meritavano di vincere contro di noi Ma hanno fatto Non hanno meritato contro il Milan Il Milan meritava di più Ma contiamo il fatto che da quando abbiamo perso col Napoli Abbiamo perso fiducia in noi stessi E questa non è una cosa bella Perché il Milan è tanto forte comunque come squadra Non è affatto insomma una squadra da secondo Però purtroppo ora stiamo giocando di merda Veramente di merda Ci pare che abbiamo paura di noi stessi Dobbiamo fare qualcosa se non vogliamo che il Napoli ci sbatta fuori dalla corsa a scudetto Meno 8 dal Napoli E c'è gente che osa ancora dire Gufata la prossima volta Stiamo a 8 punti di distanza Cioè 8 punti sono tantissimi Già 6 erano tanti come ha detto quel coglione di Caressa Adesso ci pensiamo pure noi quella cremonese Che non vinciamo a stargli così dietro Non lo so veramente Ma porco tutto Comunque Il positivo I giovani del Milan sono forti Non si può negare Perché stasera Serginio Dest Li è emmagnati ai difensori della Fiorentina Serginio Dest E anche Vranks Vranks Dest I migliori 3 Vranks Dest E a essere buoni Le ha o no Per il gol non si può dare i meti Per una partita fatta di merda Dest Le Vranks E io direi di metterci Come terzo migliore Se proprio devo scegliere Non è una cosa Ma io direi anche Malik Tio Dai anche Tio ha giocato bene stasera Tio è cosa veramente Si lo so La deviazione c'è sua del gol Però io non vedo insomma Una Non vedo Tante colpe Perché la squadra ha giocato male Alla fine può capitare di sbagliarsi Comunque Tio ha fatto bene stasera Tio Vranks E Serginio Dest I migliori 6 e mezzo A tutte e tre Tata Rusanu Voto 6 Dai non potevi fare niente sul gol E' stata colpa loro Poi Stio Hernandez Voto stasera 5 e mezzo Non hai fatto veramente nulla di eccezionale Teuccio Mi dispiace ma è così Poi Tomori e Kalulu Voto 6 e 6 No diciamo così 6 e mezzo 6 e mezzo Perché avete fatto tutte e due Un lavoro straordinario stasera E non era rigore quello là Meno male Fica io Comunque Allora C'è stato bravissimo S'è stato Gli interisti Rosicano solo Con i loro falli E le loro cose Comunque Il Milan gioca molto molto meglio Rispetto Cioè Diciamo Non rispetto ad adesso Non abbiamo giocato male stasera Però il Milan Comunque Ha delle risorse Che gli interisti non hanno Comunque il Milan Sta facendo bene lo stesso Allora Mi idea Allora Centro campo Tonali e Benaser Benaser 6 e mezzo Stasera Tonali 5 Ha giocato un po' Maluccio stasera Sandro Mi dispiace ma è così Poi Leao Per il gol 6 Se no sarebbe stato 5 Il tuo voto Hai fatto veramente male stasera Giroud 6 meno Per l'assist E comunque Ci hai provato in generale Più di Leao Però un po' di meno Perché hai sbagliato Dei gol abbastanza facili Orighi 4 Divock Stai facendo veramente schifo Ma proprio schifo pesante Allora Tiolo Ho già dato il voto Gli ho dato Cioè È entrato Tomori e Calulo Non è la difesiva centrale Era Tecalulo a destra E Tomori dentro Comunque Dest Diciamo Che è entrato 6 e mezzo Come pure Malik Tio Bravissimi tutti e due Poi In attacco Allora L'ho già detto i voti Allora L'altra parte Krunic 5 Non hai inciso Non hai fatto nulla Diaz 5 meno Per esserti magnato Con il gol davanti al portiere Veramente ridicolo Cioè io non lo so Veramente A questo livello Non riusciremo mai A rivincere la seconda stella Non mi venite a dire Però non durerà il Napoli Il Napoli Ora come ora Potrebbe durare Per una vita intera Non lo so Pioli Io gli darei un 4 Perché veramente Stasera i cambi Li ha azzeccati Ma che ci voleva L'azzeccare con stasera I cambi Che hanno comunque Giocato meglio dei titolari Cioè non lo so Veramente Padre Stai perdendo di tutto Stiamo distruggendo Tutto ciò Che abbiamo creato Il Milan ha creato Una grande squadra Che sta perdendo Tutto ciò che ha fatto Ma ci rendiamo conto Li mortacci nostri Vabbè Allora Voto in generale Al Milan Della prima parte Diciamo Prima del Non è del Gioia andata Perché mancano Un po' delle partite Di questa prima parte Prima del mondiale Voto Io direi Il Napoli Un 10 pieno Il secondo Non è il Milan Secondo me La Lazio La seconda Con 7 e mezzo Il Milan Da 6 in meno Proprio E poi a seguire L'Inter Da 5 La Juve Da 4 e mezzo Cioè insomma Il Milan Da 6 in meno Si salva stento Davanti a noi C'è pure l'Atalanta Che è un campionato Almeno da 6 e mezzo Per ora Il Milan Proprio 6 in meno Siamo completamente Non ho altre parole Ragazzi Basta Non voglio più parlare Forza Milan Ma stiamo facendo Veramente pena Il diavolo Miavolo Che si riprenda Subito Perché se no Siamo spacciati Ciao ragazzi